Prima di pensare a quando arriverà il Covid in misura maggiore, occorre che noi stessi, lo dico anche a quelli più giovani che sono qui presenti, ci vuole un grande senso di responsabilità perché con tutte le forze di polizia che abbiamo anche su Milano, ho detto i numeri prima, ma non è che ogni poliziotto, ogni carabiniero, ogni finanziere può stare dietro il singolo, occorre che ci sia la massima responsabilità nei propri comportamenti perché certamente la curva non desta al momento preoccupazioni però non sappiamo cosa avverrà ma molto secondo me dipende dai comportamenti soggettivi di Cesco di noi, quindi mantenere il distanziamento, la mascherina, non tenere comportamenti leggeri perché la leggerezza personale può ricadere su ciascuno di noi, quindi vorrei dire questo, è un messaggio che lancio soprattutto ai giovani che evidentemente dopo un periodo di chiusura hanno avuto voglia di divertirsi giustamente ma cautela.